Una delle cose che colpisce di più del mal costume delle cosiddette democrazie occidentali è anche il comportamento molto spesso delle opposizioni. Le opposizioni in una democrazia sana sono quelle che in Inghilterra si chiamano le opposizioni di sua maestà. Quindi fanno opposizione credibile e nell'interesse della corona, dicono gli inglesi, quindi del popolo interessato da un certo governo e le fanno in una misura, è il caso di dirlo, sostenibile. Quando si dicono certe cose, per esempio il blocco navale, è evidente che si dicono con l'unico scopo di mettere in cattiva luce un governo che non fa queste cose. Giorgia Meloni non so quali e quante fossero le sue competenze quando era semplicemente una delle leader dell'opposizione, certamente aveva delle competenze perché è persona seria, è in Parlamento e in politica da molto tempo, ma credo che non sapesse bene quello che diceva, anche dal punto di vista puramente tattico, strategico, nautico, quando parlava di un blocco navale. Blocco navale in tempo di guerra, sappiamo che cos'è, si mettono delle imbarcazioni da guerra davanti a un porto e si mette il porto nelle condizioni di non lavorare. Ma questo in tempo di guerra si può fare, e si può fare facendo un districamento militare, armato. In una situazione diversa, il blocco navale è impossibile. D'altra parte lo so benissimo che Giorgia Meloni ci sta giocando una buona parte dei suoi vantaggi che fino ad oggi politicamente ha avuto e lo abbiamo visto anche con le ultime elezioni. Però io andrei un attimo oltre. Noi siamo in una serie di organizzazioni internazionali, siamo all'interno dell'Europa, siamo all'interno della Nato, siamo all'interno delle Nazioni Unite. Questa è una tragedia di portata internazionale. Qui sono i governi di tutto il mondo, è l'umanità che ci sta giocando la faccia. Ma hai ragione, solo che io avevo capito dovevamo cambiare quelle regole di quest'Europa, no? È una tragedia. Ma è più altrita la pacchia, abbassiamo puniti sul tavolo. La stessa stegua di uno tsunami, di una grande eruzione. Non si può giocare a chi deve cominciare a lavorare, eccetera. Cominciando dal nostro massimo presidio internazionale, le Nazioni Unite, qui il lavoro di intervento da fare a livello economico, a livello finanziario, a livello se si vuole militare, deve essere immediato. E non si tratta di fermare quei 4, 40 o 400 ciantroni degli scafisti o cose di questo genere. Si fermi un attimo, professore, mi scusi. Altre cose. Di Segardini ci vuole una mobilitazione su scala mondiale. Non è pensabile che risolviamo solo questi problemi. Eppure noi siamo sempre, come dire, il primo arrivo, il primo porto. Non te vedo che quelle persone, quei corpi senza vita stanno arrivando sulla spiaggia di Crotone.